Allora, innanzitutto vi chiedo a tutti e tre, come è stato tornare sul set di questa seconda stagione e come ritroveremo i vostri personaggi? Alberto. Allora, è stato emozionante, è stato bello, è presente come quando ritorni a scuola dopo tre mesi di vacanza, ecco che rincontri i compagni Pirla che ti stanno di fianco e con cui hai sempre scherzato, quindi quello è stato molto bello. È stato bello anche ritrovarsi in una situazione comunque molto delicata a livello non solo nazionale ma anche internazionale, quindi la possibilità, la fortuna anche di lavorare tutti i giorni con loro non è stata una cosa sicuramente scontata. Questo è stato bello, ritrovare il personaggio di Gabriel che ha delle evoluzioni sue personali è stata una bella sfida e mi è piaciuto riabbracciare questo personaggio dopo pochi mesi. Possiamo sottoscrivere anche noi quello che ha detto Gabriel? Così vai, non ho un'altra domanda. Così, togli Gabriel e metti Lorenzo, togli Lorenzo e metti... Vai avanti con un'altra domanda. No, non ha un'altra domanda, è sempre evidente. Allora, ti dico, no, ma è solo per te, magari... No, no, vai, 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 vai. È stato bellissimo tornare su questa serie che abbiamo amato quasi quanto l'ha amata il pubblico, forse anche di più, ed è bello soprattutto perché quello che abbiamo raccontato nella prima stagione lo approfondiamo, ci andiamo più in profondità appunto, e ci siamo dati il lusso di divertirci anche un po' più dell'anno scorso, visto che la parte delle presentazioni era già fatta, visto che ci conosciamo bene, quasi quanto conosciamo le nostre famiglie, visto il tempo che passiamo insieme. Quindi questa stagione è stata la stagione del divertimento, si può dire, nonostante la complessità dei temi affrontati, ci ha dato anche la possibilità appunto di vivere certe cose con un po' più di leggerezza. È come quando logicamente affronti una cosa che già un po' conosci, ti porti un carico di ansia in meno, quindi rispetto all'anno scorso sicuramente eravamo tutti molto cambiati, come i nostri personaggi, lui l'ho trovato super serio lavorativamente, non che l'anno scorso non lo fosse, ma ancora più convinto, glielo dico sempre, Gianmarco invece no, non è cambiato, è una virgola, io sono peggiorato, tutti, perché il cambiamento può essere in meglio o in peggio, come per i nostri personaggi, in qualcuno è meglio, qualcuno è in peggio e Riccardo lo metterei forse in questa seconda categoria, parte da una sicurezza presa l'anno scorso, qualcosa però perde quest'anno, vediamo se magari nel finale riesce a recuperare. Allora, nella serie irromperà ovviamente anche la pandemia, quindi diciamo siamo al passo con i tempi, come vi ha cambiato, come vi ha stravolto le vite questa pandemia, in che modo vi ha toccato, se vi raccomando magari anche personalmente? Più è Paolo. Dunque, personalmente, la faccio velocissima, c'è questa cosa, nel Vietnam hanno fatto uno studio sulle persone che riportavano, taci fammi parlare che è interessante, più problematica rientro della guerra del Vietnam, e le persone che avevano più problemi psicologici sono quelli che tornavano a casa illese, cioè che non avevano avuto un contatto diretto con la guerra, quindi non avevano stati feriti, non avevano perso un amico e questa è la fase che mi preoccupa, perché il Covid più o meno è così, lo sentiamo dappertutto, ma non lo vediamo, a qualcuno purtroppo ha toccato la famiglia, ad altri no, e quelle persone sono quelle che mi preoccupano di più. Io in particolare l'ho vissuto, ho sempre cercato di fare le cose fatte bene, non l'ho preso fino ad oggi e faccio fatica a metabolizzarlo e a renderlo reale e vero, quindi mi preoccupa quello che succederà poi. E questa è stata la parte intelligente dei sceneggiatori, di questa sceneggiatura in particolare, perché esplora quello che succede poi, dopo il Covid. Prego. Poi. Poi. Sì, sono assolutamente d'accordo con lui, è un discorso che abbiamo ampio, è bella, non me l'aspettavo la cosa del Vietnam, mi ha spiazzato. Quello che affronta i nostri personaggi è appunto questo, cioè fanno i conti con il passato, il Covid è il passato, ed è una cosa nella quale noi purtroppo, o per fortuna per certi aspetti, ancora non siamo, perché siamo nel mezzo del ciclone, e ancora non abbiamo capito quanto è il dramma vero o ci colpirà fino in fondo. Beh, sono d'accordo con i miei colleghi, sono intelligentissimi, hanno già detto tutto loro. La cosa che posso aggiungere forse è che questo periodo di pandemia a me personalmente mi ha dato la possibilità un po' più di riflettere sul tempo, ne parlavamo prima, no? Della frenesia che abbiamo nella nostra vita, nel quotidiano, è anche una componente comunque molto occidentale di una società industrializzata che deve fare, fare, fare. Quindi avere la possibilità per un momento di fermarsi è una cosa sicuramente che dà più valore al tempo, se ovviamente hai la possibilità e la fortuna che nessuno attorno a te sia stato poi realmente male. Questo è stato fondamentale. Grazie mille. Grazie mille. Buon amore. Buon amore. Buon amore. Buon amore. Buon amore. Saluti. Saluti a casa.